La frecciatina di signorini Ignazio Mosere Ivana al GF VIP, la frecciatina di signorini Grande fratello VIP, Ignazio Mosere Ivana Mrazova, la battuta velenosa di signorini. Questa quinta puntata è stata decisamente movimentata. Cosa è successo? Andando nel particolare, Luca Onestini ha incontrato il fratello. E in questa occasione gli ha rivelato che la sua fidanzata è stata sorpresa insieme al suo acerrimo rivale Marco Cartasegna. A quel punto Luca è scoppiato a piangere e ha attaccato molto duramente la sua ragazza. Finita qua? Nemmeno per idea perché successivamente i fratelli Rodriguez hanno avuto modo di incontrare la sorella Belen, e i pianti si sono sprecati. Ma questa puntata è stata una vera e propria centrifuga di emozioni. Infatti, subito dopo che è stato il verdetto sulla nomination, Simone Izzo è stata costretta ad abbandonare la casa più spiata dagli italiani con il 64 dei voti. Finito questo annuncio e dopo che la Izzo ha salutato tutti, Ilari Blasi ha voluto parlare di Ignazio Moser, rivelando il suo interesse per la modella russa Ivana Mrazova. Per questo gli ha domandato cose provasse realmente per lei. E a quel punto, il giovane ha dichiarato. Una dichiarazione, che ha già scatenato il gossip. Tuttavia, Alfonso Signorini ha voluto fare una battuta velenosa al figlio del noto ciclista, domandandogli senza tanti peli sulla lingua. Ignazio quante stelline hai dato a Ivana? A quel punto Ignazio, evidentemente imbarazzato, ha accennato un sorriso. Ma perché l'opinionista del GFVIP ha fatto questa battuta? Alfonso Signorini, la frecciata Ivana Mrazova e Ignazio Moser del GFVIP. Ignazio Moser, per i pochi che non lo sapessero, ha rivelato al gruppo di essere in possesso da dieci anni di un diario, dove ha sempre messo le stelline alle donne con cui ha avuto un flirt. E Bossari, due settimane fa, l'ha votato per questo motivo, scatenando una furiosa polemica. Infatti, Ignazio si è sentito tradito dal conduttore di Mistero. Motivo per cui non gli ha rivolto la parola per giorni. Ma i due, successivamente, sono riusciti a chiarirsi. Motivo per cui non gli ha rivolto la parola per il GFVIP. Motivazioni, tra litigi, confronti e eliminazioni inaspettate. Chi andrà in nomination questa settimana? Ci potrebbero essere altri clamorosi colpi di scena? Per scoprirlo non resta che continuare a seguire la puntata dello show su Canale 5. Motivo per cui non gli ha rivolto la parola per